E' per questo che la cultura è importante per rafforzare il senso di identità. La cultura è iniziare ad amare il proprio modo di essere, in modo sereno. E i nostri ragazzi fanno fatica per la forte discriminazione che vivono. E dunque rafforzare la loro cultura, cioè la consapevolezza della cultura e della diversità e del diritto che questa diversità possa e debba esistere, rafforza anche il loro senso di identità e l'orgoglio di essere quello che sono. La cultura è iniziare ad amare il proprio modo di essere, iniziare ad amare il proprio modo di essere, iniziare ad amare il proprio modo di essere. Io penso che è molto importante ricordare, avere la memoria di quello che è accaduto, in particolare con i giovani, Roma e non Roma, perché quello non dovrebbe mai accadere più. Perciò dobbiamo cominciare dalla storia, entrare nella storia, aiutare i ragazzi in tutte le maniere per avere abbastanza capacità e anche sensibilizzarli sull'argomento, in particolare l'antisiganismo. La memoria, la conoscenza, la storia, la cultura è importante perché è uno dei principi cardine dell'identità europea. L'Europa senza memoria è condannata a fallire. Il fascismo aveva creato una dittatura tale che non esisteva una libera opinione. Il fascismo ha inventato la radio come sistema di propaganda politica. Il primo utilizzo di mezzi di comunicazione di massa ai fini proprio di indottrinamento politico l'ha inventato il fascismo in Italia. Possiamo dire che i media sono al tempo stesso causa e conseguenza di un antigitanismo diffuso, un antigitanismo che è diventato socialmente accettabile, parte del nostro sistema di valori. La situazione tra l'epoca fascista ed oggi è ovviamente diversa, ma ci sono degli elementi di continuità molto forti. Il meccanismo e il modo in cui si parla di rome e sinti sui media può essere uno di questi. Sui media è possibile dire dei rome e sinti qualsiasi cosa. Su radio, tv, media, mainstream, ascoltati da tutti, indipendentemente dal pensiero politico, alla base magari di questi media, si può dire qualsiasi cosa, si può invocare il genocidio come se si stesse dicendo una qualsiasi normalità. L'altra questione, qui in Italia, vuole buttare a cede qua in Italia, si fa anche per l'occasione del lavoro, una dena del lavoro per il Roma, la città della lavoriniera che non ha appena sempre il ciumino anche per con delinco, cioè sono improprio. E quelle poche persone, che sarebbero rome, taggiano la urinina, una pineda si roma. Innanzitutto penso che la condizione della donna rome sia differente dalla condizione dell'uomo rome, perché comunque sia viviamo una doppia discriminazione all'interno dell'Italia, essendo comunque sia anche donne, ma così come vive anche una persona italiana, una donna italiana, la discriminazione sia sul lavoro che non sul lavoro. Almeno due terzi dei rome sinti in Italia vivono in casa, ma i media parlano sempre di rome sinti che vivono in campi, baraccopoli, situazioni di precarietà abitativa. Non si ricorda mai che la metà dei rome sinti in Italia sono italiani. Tutto ciò perché è funzionale a descrivere i rome sinti come esterni alla storia italiana, e che appunto, dice uno stereotipo che viene ripetuto, non si vogliono appunto integrare. La scuola per i rome, dove i ciaure, sono immaginati dai suoi cotani, sono immaginati dai suoi cotani, sono immaginati dai suoi cotani. Ci sono i pazienti che hanno ciaure e aiutano, poi gli aiutano, poi gli scrivono, poi gli aiutano, poi gli aiutano, poi gli aiutano, eccetera. Chiaramente oggi ci troviamo in un sistema democratico dove c'è la libera stampa. Il problema è che su alcune minoranze si è ancora portata poca conoscenza, perché la conoscenza è molto importante per cambiare pregiudizi, avere una visione delle cose più rispondente a quelli che dovrebbero essere i valori comuni presenti sia nella Costituzione italiana che nell'Unione europea. Fare delle cose per i rome, in generale, è sconveniente dal punto di vista politico. E dunque perseguitarli, sgomberarli, trattarli male, metterli nella gabbia della sicurezza, eccetera, eccetera, conviene politicamente, si guadagnano voti. Io penso che noi siamo diversi. La conseguenza di questa profonda diversità è l'antiziganismo secolare. E dunque questa nostra diversità abbiamo cercato di cancellarla, integrandoci. Molti di noi si vergognano di dire che si vergognano della propria cultura, che la cultura è anche lo stile di vita, il modo di essere, il modo di pensare, il modo di vedere la vita, la morte, la famiglia. Non è solo un dipinto, una canzone. È il modo in cui tu sei, dentro. Quando i sinti e i rom ritengono importante raccontare la loro esperienza di internamento e lo fanno, c'è molto disinteresse sia da parte delle istituzioni, ma soprattutto da parte dell'accademia. Tutti i ragazzi, in particolare la comunità romanina, è importante che conoscono la loro storia, di quello che è successo, anche se è una storia molto crudele e trista, perché da quel punto, da quella storia, possono creare un futuro migliore, per se stesso, ma anche per la società maggiore d'Italia, per vivere, non integrandosi, ma una coesione sociale, vivere e rispettandosi uno con l'altro, ma cominciando solamente dalla storia. La storia è molto importante. Ragazzi, studiate. Non per qualcosa, ma lo studio è qualcosa che vi porterà lontano, vi aiuterà molto, perché fa, fa tanto.